e adesso lutto e niente di che ma adesso lutto ok staccheggia corteccia corteccia qua no no saccheggia qua saccheggia e c'è allora mi dispiace ma l'unica cosa possiamo fare a questo punto è prendere il meglio da questa orribile situazione questo ci ha qualcosa di più ok l'unica cosa possiamo fare è molto ingombrato belli eh aspetta che qua c'ho fermi 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 ma non sento di verlo più avanti che dai personaggi aspetta qua questa è la cosa antenna lunare ok io direi uno due tre quattro e quattro no questo no questo si questo si questo pure questo pure come questo 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 quest'altro quest'altro ancora è questo si poi ok queste sono case natura quattordici queste sono dieci queste sono tutte cose comunque da mandare all'accampamento eh due questo ok mandiamo all'accampamento tutte queste cose questa cosa sarebbe sacca di ombro radice da letalità io direi che io direi queste cose mandare all'accampamento oh e stiamo tornati ok e adesso saccheggiamo di nuovo le nostre e qua c'è il bastone che servirà qua li avevo presi questi mi dispiace ma ok allora l'unica cosa che possiamo fare appunto è andare all'accampamento adesso prenderci un po' di questa roba eh beh c'è posso dire che diciamo nella disgrazia grazie diciamo che ci stiamo rifacendo un po' di robina di guarigione bomba di polvere nera sto ingombrato ok 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 sto di nuovo ingombrato vabbè manderemo cose all'accampamento quindi qua ma queste cose queste cose c'è ok saccheggio pure dal bue devo saccheggiare pure dagli animali va bene allora io intanto qua c'è qua c'è il mondo comunque nella allora nella disgrazia c'è un mondo qua non ci sono in tanti in più da fuoco però parla di fuoco in evoluzione livello 3 magari vediamo questa la valutare per tutto il resto direi diciamo 1 2 3 questa sarà da non conviene armia di guerra spada e corte questa potrerà la will vediamo un po' anche se poi c'è la banda armonica questo altro arco arco dentro velocità trasmutazione addirittura vabbè allora io arco lungo 5 4 allora arco lungo questo leziono 1 2 questo no devo rimanere 4 e 4 va bene questo questo questi questi si arma sono però carica taurina ah l'azione di classe sarà da vedere sarà da vedere eventualmente questo è un mantello e questo 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 andiamo via questo un anello scuro un'altra un'angema in grado di tagliare la stessa carne non c'è nient'altro con lana momento di arpisti scudo vibrazione più livello 1 taglio alle prove titolvezza su saggez vabbè poi vedremo comunque queste cose manda accampamento ok allora ok qua perfetto e niente allora qua c'è una situazione tanto porca miseria qua ne sono ne usciranno possibilmente tre episodi pensavo pensavo di no pensavo molto meno il tempo va via va via tanto uno non se ne accorge il tempo va tanto via ora qua dentro ci saranno altre cose ceris questo orrore alato tira una serie di di uti una strage allora or un'ora morto si il loro no n'era morto nessuno e una situazione che niente quello potrò fare è purtroppo cogliere il meglio nella disgrazia il meglio che possiamo cogliere la disgrazia è questo forza apri chiedito stropicciato chiediamo a forma di torre dobbiamo incontrarci la macchia è pronta va a casa mia c'è niente in terra cerca la torre dovresti avere la chiave signore forzie qualcuno ha tramato qualcuno ha tramato mi sa abbiamo avuto dei traditori mi sa allora calmi calmi aspetta un attimo che era personaggio quindi di nuovo allora questo qua questo e basta ok manda l'accampamento non so più in gomma va bene io quello che farei adesso è scendere giù a questo punto seminterrato ci vado a questo punto io seminterrato ci vado scusa ok seminterrato ci vado chiave a forma di torre bisogna ignorare un forziere scusa beh se sono interrato ci vado va bene occhio di terra apri ok però allora non ci vedo niente intanto non capisco qua cosa c'è ah ok l'alba lunare ok parlare con damon 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 ha salutato damon non c'è più damon non c'è più però io se è interrato ci andrei a sto punto questa è la porta per la finita ah ma migliora il forziere dice no portiere però è chiusa a chiave pensavo che fosse ok qua c'è un altro portiere però apri posso un attimo cazzinare qua servirebbe a starium però vabbè un'altra volta però una chiave avevo preso dove cazzo qua c'è un letto no 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 allora termina la conversazione scusa dai ok 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 oh apri qua allora allora devo allora attacco mano primaria poi ok ok eh marca miseria scutato io lo voglio perché devo vedere a questo punto cosa c'è qua perché apri c'è niente però rompiamo e così passiamo vai oh apri apri Niente Ragazzi Se volete Ho un'idea Fermi Fermi Noi non voglio tagliare Se para No 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 aspetta Ragruffa Io separo lei Perché qua Io direi No fiamma saga Esagerato no 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 Tardo di poco Cosa mi piace qui Fermi Fermi Cosa Caspita c'è qui Allora Fermi Allora Raggruppa tutto Ok Adesso direi passiamo Facciamo salire di livello Questi qua eh Adesso facciamo salire di livello Allora Dologito livello 5 Ok Ottengo Tutti incantesi livello 3 Non poterà invocare fulmine Queste sono Cioè sono tutte mie Capacità Passiva tenuta Circo della terra Ok Piccolo ladello Tiene due cantetti Che sono sempre Sempre preparati Allora Puoi lanciare Tempesta Le vischie A velocità Tempesta Le vischie Invocare il fulmine Le vischie Le velocità Invocare il fulmine correzione energie e trama ipnotica luca fulmine crescita vegetale luce diurna e velocità fulmine volare fulmine volare under dark come manodorante tocco dal vampiro che diurna e velocità che fulmine fulmine sono indeciso da druido posso fare il mondo allora orressamente o vado di questo tempesta di rischio e invocare il fulmine o vado di tocco dal vampiro che mi curo però non me manodorante faccio niente questo costa poi cantesimi preparati ok accetta che devo fa puoi lanciare una sola selezione invitata incantesimi aspetta allora ok 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 allora aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo prepara allora creare e distruggire acqua io onestamente mo saluterei poi livello 3 morte apparente poi un alleato in uno stato canonico protettivo diventa resistenza tutti i danni tranne quei fisici immune effetti di malattie e veleni questa l'avrei l'avrei voluta poco fa questa poco fa scontro di prima sarebbe stato utile crescita vegetale per oggi i costi vegetali che ricoprono l'area per ridurre no porto al normale luce di urna evoca atmosfera oppure incanto un oggetto finché emanio a luce che risolva oscurità le vicinanze i geti possono essere allora incanto non con una sfera ok i geti possono essere incantati con uno di una per un massimo di 20 turni ok 18 metri e al prossimo si ripara protezione dell'energia abbiurazione tocca nel creatore per rendere la resistenza ok nell'immediato mi serve questo luce di urna quella che serve di più nell'immediato infatti ce l'ho già io piuttosto però piace vegetale no morte apparente per rendere resistenza agio freddo fumo fumo io sarei per morte apparente poi charme su persone animali vabbè le charme su persone onestamente c'ho poco coltello di ghiaccio ho 3 2 anni vediamo un po' livello 2 cosa abbiamo qua sfera insuocata sfera insuocata io ce l'ho ce l'avrò col bastone cambiandolo perché me lo ricordo lama infuocata evoca una una scimitaria infuocata infligge 3 ok 5 6 ma devi rimanere sull'incantatore ok questo potrebbe non essere male scaldare il metallo ok io però devo pensare cosa ne va io nello nonare questo è di livello e livello 2 questo c'ho e 2 ce l'ho tutte e 2 datorante ok lasciamo su persone o amicizio animali amicizio animali non la sto utilizzando quindi fargli levarlo e facciamo 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 non so i turni ah beh semmai voglio vedere allora sezione veleni ben fuocata ripeto ce l'ho da altro delle coriacea poi c'è una creatura degli attacchi mette a 16 la sua classe armatura maione lunare boh ce l'ho però sfera infuocata livello livello 2 ok e andiamo su lama infuocata lama infuocata e va bene ok va bene poi warlock è capace nuovo incantesimo allora patto migliorato allora continua incantiamo un nuovo incantesimo quindi un po' paura pulisci i bersagli costringi a lasciare cadere oggetti impugno subiscono svantaggi bene questo questo è bello questo è bello questo è bello si paura ok va bene via passiva ottenuta suppliche occulte fatto migliorato ok ora seleziona un'altra cosa fardello mentale spiego occulte allora puoi lanciare lentezza usando prestaggio di sventura puoi lanciare scambio di maesone usando l'assorto incantesimo lingue delle bestie puoi lanciare a parlare agli animali senza seducente vista del diavolo poi ok puoi vedere l'umanità insieme ochi no rigore immondo puoi lanciare su te stesso maschera in molti volti tutto con le ombre deflagrazione respingente poi spingi fino a massimo lato dei cinque fati allora una volta puoi lanciare anatema ok fa questo questo che mi va in combo con quell'altra cosa perché devo levare aggiungiamo piuttosto allora estasiare no mani brucianti ogni bersaglio ogni bersaglio infiammato qui c'è 3 18 invece leggio extra con gli attacchi contro il bersaglio in poi di svantaggio della sua dimostra a tua scelta se bersaglio muore prima ok poi marino altra la tua senza ok potrebbe non essere male questo che è contro incantesimo nel lancio incantesimo ok ok mh volare felici turni potrebbe essere tra ipnotica come i pugnali palla da fuoco palla da fuoco dai di palla da fuoco facciamo a buttelle oh adesso te che sei barbaro o barbara magari non stresando però allora cambio del cuore bestiale sempre l'orso va bene sempre l'orso lignaggio da venus posizione marchiante allora tenta marchiante per stare rendo luminoso e impedì di diventare invisibile è fondamentalmente una che mena quindi ok adesso te te ora quali ok ok va bene io direi a sto punto prendiamo questo per mettere la rinascita ok ora qualitrice di mass non aspetta senti dice ok qua questo ok blocca persone può servire questo che è proiezione energia questo può servire è servito questo creare e distruggere acqua ce lo leviamo qua io mi andrei piuttosto di proprio cura ogni alleato vicino potrebbe essere un'idea vediamo se c'è qualcos'altro che serve a poco questo e questo poi pressione energia questo cos'è guardiani spirituali qualche spirito per proteggere i nemici subiscono 3 24 per turno lo dicevo ovviamente dimezzata ok se come penso io questa è interessante la voglio se come penso io la resistenza è vero non è questo 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 se ti faccio danno semplicemente danno vicino ai nemici potrebbe essere una bella cosa ok va bene se come ho capito potrebbe essere interessante questo se vuoi capire queste altre cose maledizione vabbè lì fa interdizioni traccia un lì fa arcano un terreno che innesca un terreno che da te scelto quando mi colloca al pesto ok ah tipo una mina e come se ne metti una mina in te questo animare i morti necromanzia crea un servitore non morto da un cadavere crea un servitore non morto da un cadavere mi piace mi piace preghiera di guarigione io tazzo tante cose qua da preghiera di guarigione sentirebiamo tanto di cose per cure ne abbiamo to questo animali morti va bene questi in determinati combattimenti questa cosa può essere utile ok abbiamo fatto ma non devo non vabbè ora io prima di andare prima di andare di fare io voglio capire che c'è là fuori ma posso scassinare eh posso scassinare ok signori io questa puntata devo chiuderla qui devo chiuderla qui per vari motivi intanto saranno più puntate la registrazione lo vedrete nel corso del tempo eh porca miseria io però l'interrattura è chiusa a chiamare allora azioni non voglio soltanto vedere se se mi concedi ecco qua la possibilità di se io nascondere di scatto e di usare posso voglio voglio scassare devo la mia tappa mappa mareturti l'interrattimento no io volevo volevo la menu contestuale scassi oh scassiniamo sì vediamo un po' 14 addirittura va bene per uno ok conseguita vai proviamo 10 ci sono ci sono ci sono ci sono ok va bene temperatura aperta ok qua ma non delle celle delle celle comunque io devo chiudere qui qua e signori io sono particolarmente tentato di andare di qua perché vedo un mondo che mi ti para davanti ok signori io facciamo che non posso vedere di fretta lo vediamo alla prossima